Arzignano, i carabinieri, Nasseli e Spettorato del Lavoro hanno controllato tre locali del centro storico frequentati da giovanissimi e minorenni, rilevata una lunga serie di violazioni delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di regolamentazione del lavoro. Per uno, vista la presenza di pregiudicati, verrà proposta la chiusura temporanea, accertata anche in un caso la vendita di alcolici a minorenni. Le denunce e le sanzioni in totale ammontano circa 50.000 euro. Piovene e rocchette. I carabinieri hanno arrestato per spaccio un vicentino di 34 anni, operaio e già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, che era alla guida di un autocarro, è stato perquisito e trovato in possesso di hashish e anfetamine. Visto il suo atteggiamento sospetto, i militari hanno deciso di controllare anche un capannone da lui utilizzato come abitazione, trovando altri 138 grammi di hashish. È stato così accompagnato in caserma, arrestato e posto ai domiciliari, a disposizione del magistrato. Arzignano, i carabinieri hanno denunciato due minorenni, ritenuti responsabili della rapina a un negozio di alimentari e tabacchi. I due avevano intimato al proprietario di sdraiarsi a terra, rubando il denaro, 15 euro, contenuto nel registratore di cassa, per poi fuggire. Grazie alla descrizione precisa da parte della vittima, i militari sono riusciti a individuare i responsabili di 16 e 17 anni, che alcuni giorni prima erano già entrati nel negozio con altri due giovani, molestando il titolare e sottraendo alcuni pacchetti di sigarette. I due sono stati segnalati al Tribunale per i minorenni di Venezia.